Nessun rischio per la velocizzazione pescara a Roma. All'indomani del summit che ha raccolto intorno ai tavoli i massimi esperti dell'economia si tirano le somme e il deputato del PD Luciano D'Alfonso non lascia nessuna presunta criticità sollevata dal nuovo ministro delle infrastrutture Salvini al caso. L'Abruzzo sta viaggiando in direzione di una nuova economia con la costituzione delle ZES e delle zone economiche speciali che favoriscono grazie anche ai fondi del PNRR gli investimenti. Le imprese trovano nelle zone franche sgravi fiscali ma anche meno carte da firmare cioè meno burocrazia. A disposizione ci sono più di 2 miliardi di euro tra fondo complementare PNRR. Senza il trasporto adeguato è difficile pensare a un futuro. Ci sono le risorse finanziarie, ci sono le norme che permettono di accelerare le procedure e le questioni sollevate dal territorio, penso ai comuni che hanno inteso interloquire con la stazione appaltante, sono questioni che si possono esaminare, contraddurre e definire. Perché il legislatore ha previsto anche poteri straordinari per fronteggiare le osservazioni dei territori. Quindi non esiste assolutamente il rischio che l'opera non si faccia. Sulle procedure esiste una legge da 109 del 2018. L'Anfisa ogni anno al 31 agosto fa il piano delle verifiche e struttura le priorità di strade, autostrade e ferrovie. Vogliamo sapere, per quanto riguarda i 29.704 chilometri di strade comunali, i 150 chilometri di autostrade per l'Italia, i 1.880 chilometri di strade e autostrade gestite da Anas, e poi i 5.386 chilometri di strade provinciali, quali sono state le criticità rilevate in Abruzzo da Anfisa? Sono le criticità che se non vengono osservate e lavorate tecnicamente, poi finanziate e poi proceduralizzate, danno luogo a quella che si chiama la morandizzazione, purtroppo portando con sé anche morti, come è accaduto per il Ponte Morandi. Sui report contano i numeri di fatto, viadotto per viadotto, galleria per galleria, D'Alfonso chiede lo stato dell'arte, solo così si può parlare di finanziamenti e soprattutto strutturare un adeguato da farsi.